Lontano da occhi indiscreti e in assoluto silenzio, isolato da tutto e da tutti a Torre del Grifo, il Catania continua l'avvicinamento al match del Barbera, una sfida dal sapore unico alla quale gli etnei intendono dunque arrivare concentratissimi. Nel quartiere generale Rosso Azzurro, per l'occasione, sono mutate oltre che le abitudini anche il programma di lavoro. Fra poco gli etnei torneranno in campo per l'ultimo allenamento prima della rifinitura prevista domani. Gli uomini di Maran stavolta partono con i favori del pronostico, ma il derby, si sa, sfuggono ad ogni logica di previsione. Il grande dubbio resta il recupero di Bergessio. L'attaccante argentino si sta avvicinando al match con un programma di lavoro personalizzato. Le possibilità di vederlo in campo sabato sera al Barbera restano minime, ma Maran in corso suo nutre più di una speranza. In caso di eventuale nuovo forfait del sudamericano, Ducara, alla luce anche delle scelte fatte dal tecnico Rosso Azzurro nelle ultime gare, resta in vantaggio su Morimoto, nonostante l'eccellente stato di forma dell'attaccante nipponico. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per la scelta di Maran. In campo, ma a bocca di Falco, fra poco anche il Palermo. Per Gasperini sarà l'occasione per provare l'undice anti-Catania, nel quale ci sarà di certo spazio per Miccoli e Donati. Contro i Rosso Azzurri, il tecnico Rosanero dovrebbe affidarsi al cosiddetto schema d'albero di Natale. Oltre a Miccoli, nel Tridente, ci sarà spazio anche per Ilicice e Brienza. In mezzo al campo è ballottaggio Rio-Saviola per la sostituzione di Barreto, fermato dal giudice sportivo. Nonostante l'attesa, sabato sera a Barbera non ci sarà il tutto esaurito. L'unico settore sold out sarà quello riservato agli ospiti. I supporter Rosso Azzurri hanno polverizzato in poche ore i 600 tagliandi disponibili.